Sono Luigi Bonanate, professore emerito di relazioni internazionali nell'Università di Torino, dove ho insegnato per quasi 50 anni Relazioni internazionali, una delle materie che rientrano nel gruppo della disciplina madre, che è la scienza politica. Sono socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze. Qualche anno fa ho avuto la medaglia d'oro del Presidente della Repubblica per i beni meriti della cultura e dell'arte. Una delle pagine di storia contemporanea più affascinanti e oserei dire sconcertanti e quasi incomprensibili è rappresentata dalle modalità della transizione del mondo contemporaneo dall'età del bipolarismo a quella del, non saprei dirvi bene che cosa, ma un qualche cosa che viene dopo lo sconvolgimento straordinario è rappresentato da quell'evento. Si tratta addirittura di un evento che potrebbe essere classificato come impossibile, ma è succeduto. È una cosa che era parsa a tutti assolutamente insensata, irrealizzabile, davvero impossibile, e invece è successa. È successa, se vogliamo constatarlo nella sua modalità più clamorosa. Tutto questo si concretizza la sera del 9 novembre 1989, quando il famoso muro eretto nel 1961 che divideva, che segregava, per così dire, la parte sovietica della città di Berlino, venne scavalcato e poi abbattuto e fatto a pezzettini. Un evento veramente importantissimo dal punto di vista simbolico, naturalmente. Perché ho detto impossibile, inverosimile, irrealizzabile e così via? Ma dobbiamo innanzitutto, per arrivare a questo punto, capire quali siano stati gli antecedenti di questo evento. Per non farla troppo lunga e consapevole del fatto che dal 1945 in poi si costituì un certo tipo di ordine internazionale, in qualche misura, o anzi in massima misura governato dagli Stati Uniti e dall'Unione Sovietica, soffermiamoci, o meglio facciamo partire la nostra storia, dal primo agosto 1975, che è la data in cui a Helsinki viene firmato il cosiddetto atto unico della conferenza della CSCE, Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Si trattò quel giorno di un evento importantissimo, perché? Perché intanto parteciparono e approvarono le decisioni che tra un attimo riferirò, approvarono queste decisioni tutti gli stati partecipanti, che erano sostanzialmente tutti gli stati più importanti, grandi, significativi di tutto il mondo. Di compreso, per intenderci, persino lo Stato della città del Vaticano, che addirittura aveva avuto nelle fasi preliminari per giungere a questa conferenza di Helsinki, un ruolo di grande, quasi segreta importanza, perché la politica estera o la diplomazia vaticana si praticò moltissimo per favorire quell'evento. Tra le tante decisioni prese in quella circostanza ce n'è una che suscitò grande scalpore, perché aveva un'importanza estrema. La decisione fu quella di dichiarare la conclusione definitiva, non pensiate che sto scherzando, la conclusione definitiva della Seconda Guerra Mondiale. In che senso? Mentre i trattati di pace di Parigi del 1946 avevano chiuso quella pagina terribile per quasi tutti gli stati del mondo, erano rimasti in sospesi due fatti di armistizio. C'era stato un armistizio tra la parte occupata dagli alleati occidentali alla fine della Seconda Guerra Mondiale, di competenza che restava, come dire, di competenza occidentale, in sostanza statunitense, insomma, quella che diventava la Repubblica federale tedesca. Dall'altra parte c'era la Repubblica democratica tedesca che afferiva invece al blocco socialista a guida sovietica, a guida russa. Quel giorno a Helsinki che cosa si decise? Si decise che quei due armistizi dovevano finire e che insomma era necessario, e così si decise, che gli Stati Uniti firmassero la pace con la Repubblica democratica tedesca e che l'Unione sovietica firmasse il trattato di pace con la Repubblica federale di Germania. Cioè dire veramente la fine totale dei postumi o delle conseguenze della Seconda Guerra Mondiale. Il contenuto politico di quella decisione quale era? Era non esisterà mai più uno Stato tedesco, esisteranno per sempre due Stati sovrani, sovrani come si intende normalmente la sovranità statuale, due Stati sovrani, uno a Occidente, la Repubblica federale tedesca, e uno a Oriente, la Repubblica democratica tedesca. Non si tratterà mai più di discutere il problema della riunificazione delle due Germania. Si capisce immediatamente la portata straordinaria di questo evento perché la questione tedesca era stata praticamente al centro della politica internazionale in sostanza per tutto il ventesimo secolo, con modalità diverse, ma era sempre stata la massima preoccupazione dei grandi Stati del ventesimo secolo. Ora, presa questa decisione, e siamo nel 1975, sembra inaugurarsi una grande sera di pace. Ma a questo punto inizia, e non voglio indurre in nessuno l'idea che io stia immaginando una sorta di preparazione di questa serie di eventi, ma a partire dal 1975 fino ad arrivare al 1979, cioè al 9 novembre, c'è una successione di eventi che poterono sembrare sul momento più o meno importanti, che se successero, questa è la cosa strana e stupefacente, ogni due anni, con un ritmo che fosse stato studiato a tavolino. Non è assolutamente così, la realtà si muove per conto suo, in determinate condizioni e circostanze, ma certamente nessuno ha mai scandito la storia a priori per tappe pienali o qualche altra cosa. Che cosa succede però, molto rapidamente in questi anni che vanno da 75 all'89? Succede innanzitutto che, come ho accennato un attimo fa, in questo clima di pace completa, in cui sembra essere entrata il sistema internazionale, cosa succede? Succede che l'elemento che aveva determinato l'ordine internazionale e che era la dissuasione reciproca, l'equilibrio del terrore, quel tipo di elementi che avevano contraddistinto il periodo precedente, cede, cade, perde la sua portata dissuasiva, cioè perde di credibilità in sostanza, più nessuno pensa in quel momento che possa scoppiare uno scontro tra Stati Uniti e Unione Sovieti. Tant'è vero che nel 1977, quindi due anni solo dopo Helsinki, scoppia improvvisamente quella che venne allora chiamata, con un termine un po' eccessivo ma non importa, la Seconda Guerra Fredda. Che scoperta precedette a questa definizione? L'idea che, come dissero gli strateghi americani, si fosse aperta nell'ordine internazionale del tempo una window of security, cioè una finestra di sicurezza, ovvero se tutti pensiamo che non ci siano più pericoli, bene, questo è proprio il momento in cui uno dei due può approfittare del rilassamento, dei timori, delle preoccupazioni, della sorveglianza dell'ex nemico e questo è proprio il momento migliore per colpirlo, naturalmente. Certo una versione un po' cinica, a cui gli strateghi americani diedero come risposta il concetto di victory is possible. La vittoria è possibile, che cosa vuol dire? Vuol dire non vi illudete, se anche riusciste a entrare dalla finestra e dalla window of security, vi sconfiggeremmo ugualmente, perché la potenza statunitense e la potenza occidentale era certamente incomparabilmente superiore a quella sovietica. Sono, vi ricordo, tra l'altro quelli degli anni di Brezhnev in Unione Sovietica, quindi gli anni finali di una gestione, come dire, al ribasso della politica estera sovietica. Dunque siamo nel 77, questa crisi della window of security raffredda naturalmente fortemente i rapporti tra i due blocchi, tant'è vero che di quel passo si arriva, due anni dopo, alla fine del 1979, a due nuovi elementi. Da una parte l'invasione sovietica dell'Afghanistan. La enuncia basta, non diciamoci che cosa poi è stato delle vicende dell'Afghanistan nel ventunesimo secolo, ma quello lo conosciamo tutti abbastanza bene. Da una parte dunque l'invasione sovietica dell'Afghanistan e dall'altra la decisione della NATO, del trattato difensivo del mondo occidentale, la decisione di installare i cosiddetti e allora famosissimi euromissili che dovevano venire dispiegati intorno a quella cintura di sicurezza che in realtà l'Unione Sovietica si era costruita alla fine della Seconda Guerra Mondiale con gli stati alleati che in qualche misura dovevano proteggerla dagli attacchi via terra dell'Occidente. Quindi questi due eventi appaiono naturalmente reciprocamente come una provocazione, perché il clima di Helsinki sembra essere completamente sparito. A questo punto, dobbiamo aggiungere due anni come ho detto, due anni dopo inizia la crisi finale della leadership sovietica. Brezhnev muore nel 1981, quindi come vedete dal 79 siamo passati all'81, nell'81 viene eletto segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, un certo andropo, un personaggio che nessuno di noi prima conosceva e che poi non c'è stato bisogno di conoscere granché per una ragione molto semplice, anche se poverino sfortunata per lui, che restò al potere due anni e poi scomparve. Ma il 1981 è lo stesso momento in cui gli Stati Uniti, che avevano lanciato quella strategia degli euromissili, a questo momento gli Stati Uniti fanno una mossa assolutamente imprevista a loro volta. Dichiarano che si potrebbe rinunciare a questa specie di nuova corsa agli armamenti attraverso un accordo relativo alla sospensione di qualsiasi incentivazione dei rispettivi arsenali nucleari, la cosiddetta opzione zero. Dicevano gli Stati Uniti tutti i due blocchi hanno le loro armi, le loro potenze, i loro missili, le loro bombe atomiche, tutto quello che noi sappiamo, beh, basta, non c'è bisogno che ne costruiamo di più. Proposero dunque l'opzione zero. Va detto subito che l'Unione Sovietica, avvolta appunto in questi suoi problemi di successione politica, non rispondono neppure. Non rispondono neppure e passano, la delusione in Occidente è molto grande, escono tra l'altro saggi, libri di studiosi anche non schierati, non di parte, che commiserano questa mancata risposta da parte sovietica. Si arrivava quasi sull'orlo di una vera grande pacificazione e questa non avvenne. Arriviamo dunque così al 1983. Quando Andropov muore, viene sostituito da Cernienko, che ha più o meno le stesse caratteristiche di importanza di quelle che che ho ricordato un attimo fa per quanto riguarda Andropov, e di fronte a questa nuova direzione sovietica, constatato che i due blocchi biennali precedenti non hanno sortito nessun vantaggio per la pace internazionale, gli Stati Uniti nuovamente scombussolano il quadro complessivo. Perché? Perché lanciano le cosiddette guerre stellari. Insomma, dopo che avevano offerto una cosa, avevano proposto un'altra, avevano cercato di... ma c'erano stati in mezzo gli euromissili, che erano una bella sfida naturalmente. Insomma, gli Stati Uniti dicono, se non volete capire le ragioni della pacificazione, allora ve lo faremo capire con le guerre stellari. Guerre stellari che sono un'impresa, il sistema di protezione, perché in realtà le guerre stellari sono un grande... avrebbero dovuto essere un grande sistema di protezione. Adesso non sto a dilungarmi troppo sull'aspetto strategico, perché ci porterebbe un po' fuori dal discorso, anche perché poi di scudi stellari e di guerre stellari non ne sono ancora mai esistite in realtà. Dunque, siamo arrivati all'83, le guerre stellari sono la nuova grande minaccia per il mondo e che cosa succede? Succede che Cernienko muore e arriva chi? Arriva un giovane politico che era stato fino a quel punto di abbastanza di secondo piano, di seconda linea, che viene nel marzo del 1985 eletto a sua volta, nominato, primo segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Si tratta di un certo Michael Gorbaccio, un personaggio storico importante, direi tragico, nel senso che la sua impresa, il suo tentativo di fare quello che vi dirò tra un attimo, finirà poi, e qui passo per un secondo sul lato della biografia di questo signore, finirà poi ingloriosamente, perché tutto sommato Gorbaccio, se ricordate, si ritrovò nel corso degli anni 90 e fine secolo addirittura a fare il testimonial per una famosissima marca di borsette da signora, quindi una storia poco gloriosa, sfortunata, ecco mi sembra più giusto dire. Fatto sta che arriva Gorbaccio, negli Stati Uniti è presidente Reagan, permettetemi di aggiungere altri due anni e che cosa succede? Succede che dopo alcuni incontri diplomatici più o meno riservati, Gorbaccio si reca a Washington, dove il 7 dicembre 1987 firma, insieme al presidente degli Stati Uniti Reagan, un nuovo grande trattato, il cosiddetto trattato INF, relativa che riguardava l'utilizzazione dei missili di medio raggio, che quindi presentavano una dimensione strategica riduttiva rispetto all'idea dei grandi missili intercontinentali. L'evento del 7 dicembre 1987 fu celebrato, rappresentato che ho utilizzato pubblicitariamente, faccio questo riferimento perché era curioso, una grande marca di penne stilografiche, credo se ne possa fare il nome perché tra l'altro oggi le penne stilografiche sono meno importanti di quanto erano a quei tempi, quando il computer non era ancora usato se non da pochissimi. La Parker pubblicò su tutti i grandi giornali del mondo un'intera pagina pubblicitaria che recava la fotografia dei due presidenti mentre firmano il trattato e sotto c'era la didascalia, dice più che la spada potè la penna. Era il momento in cui si capì che il mondo stava davvero cambiato. Stiamo per arrivare di fatti al 1989. Cosa succede con l'87? Succede che la politica estera, la politica internazionale di Gorbaciov, si trova a dover affrontare un problema enorme, immenso. Mentre gli Stati Uniti o il mondo occidentale sono ricchi, producono mille cose, vivono sempre meglio, la tecnologia offre anche dei divertimenti straordinari. L'Unione Sovietica è un diciamolo così velocemente alla buona. Triste e infelice. È vero che c'è un letto d'ospedale o un piatto di minestra per tutti coloro che nell'Unione Sovietica ne hanno bisogno, ma c'è pochissimo d'altro. Gorbaciov che proviene dai servizi segreti si rende conto che così non si può andare avanti. La spesa militare finirà per uccidere il paese. Dunque dall'87 all'89 si sviluppa questa specie di miracolo addirittura. Se ne parlò sottovoce ma sovente tra l'87 e l'89. Qualcosa sta per cambiare, qualcosa sta per succedere ed ecco che in circostanze più o meno casuali, adesso lasciamo stare i discorsi che si fecero sui comandanti della polizia, qualcuno che sbagliò a dare l'ordine di fate passare, questo è irrilevante, ma quello che è rilevante è che la caduta del muro di Berlino significa la fine del bipolarismo, la fine di un mondo, ma la fine di un mondo che non poteva finire. Il patto tra Stati Uniti e Unione Sovietica era stato dividiamo le due Germanie, non ci sono più problemi di nessuno contro nessuno, le due Germanie non si riunificheranno mai. Il 9 novembre inizia invece, è chiaro non è che succeda tutto in quella notte, il 9 novembre inizia invece il processo che porterà poi alla fine del 1991 alla proclamazione del nuovo Stato, la comunità degli Stati indipendenti che eredita l'Unione Sovietica passata. Ora, cos'è la straordinaria eccezionalità di questo evento? Che è un evento che non doveva succedere, che non poteva succedere, che nessuno aveva immaginato che potesse succedere e che aveva a che fare con il fatto che noi ci troviamo di fronte a un ribaltamento totale della politica internazionale, che possiamo sintetizzare nella formula che secondo cui il 9 novembre si realizza, si verifica e inizia la terza guerra mondiale che, attenzione, non fu mai combattuta ma qualcuno l'ha vinse. L'Unione Sovietica finì per suicidarsi addirittura, lo Stato Unione Sovietica sparì dalla faccia delle carte geografiche di tutto il mondo per dare vita a un'altra realtà, a un mondo come dire completamente diverso da quello del bipolarismo che però non fu, e su questa considerazione concludo, non fu però un mondo felice perché dopo l'ottantanove si sono risolte alcune delle grandi tensioni internazionali dell'epoca, ma ne sono sorte di nuove e non possiamo quindi dire che il mondo che inizia nell'ottantanove e che ha ormai per noi più di qualche cosetta più di trent'anni non è un mondo più facile di quello che l'ha preceduto.